Ora vi mostro un cortometraggio che ha per protagonista una ragazzina di nome Ruby che è un genio della tecnologia. Buona visione. Altrantivale è un nerd. Computer, si mi piace più che un uomo. Mich lasse immer alle in Ruhe. Auch die Lehrer. Episode 1 Vor ein paar Wochen geschah etwas Ungewöhnliches. Questo ragazzo mi ha fatto un Handy E io ho dovuto riparare Alla prima di plan Bis che ho cercato, che ho provato un'Backup spiegelmo o che risponde um il problema schrevo che una proposta una porta come un'obbata con la scrittura un spazio parla capitol 2 Io inizio a le 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 notizie Ma una volta è stato mai buono Grazie a tutti. 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 Immer öfter hatte ich Albträume. Grazie a tutti. 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 Frühstück. Grazie a tutti. 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 jederzeit wieder tun. Untertitelung des ZDF, 2020